In aumento i guariti, nello stesso tempo anche i nuovi positivi in Abruzzo, il 40% in più rispetto alla settimana scorsa, e il ricoveri a scattare la fotografia del Covid nella nostra regione, il direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dall'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, che commenta i dati del report di ieri. La prima domanda appare spontanea. Dobbiamo preoccuparci? Allora, sono piccole variazioni che vanno interpretate in termini più assoluti che non percentuali. Consideri che la settimana scorsa erano stati, senza considerare le reinfezioni, poco più di 100 i nuovi casi, invece questa settimana siamo appena sopra i 300, quindi comunque è una circolazione estremamente contenuta. che ha riguardato, questo è un dato che però è interessante, soprattutto la fascia degli anziani, che è peraltro quella più a rischio di poter sviluppare le complicanze della malattia anche nell'era vaccinale, proprio per la minore durata della immunità indotta dal virus e o dal vaccino in questa classe di età. Buon senso da parte di tutti. L'utilità delle vaccinazioni, soprattutto per gli anziani, è la consapevolezza che molto dipende anche da noi, dice il dottor Parruti, per contenere la circolazione del virus, ad esempio se cadono gli obblighi restrittivi. Non è detto che non si possano prendere più precauzioni. Più che giocare la roulette delle varianti, dobbiamo collaborare quando riceveremo il richiamo a intensificare l'attività vaccinale, ma da subito, per chi sa di avere una copertura remota, con fattori di rischio per breve memoria immunitaria, dobbiamo lavorare con i vaccini. Nessuna delle nuove varianti, nemmeno quelle ultimamente nominate, sembra avere la forza viroimmunologica di superare la barriera rappresentata dalla nostra altissima copertura. Lei ha parlato poi di antivirali e dell'importanza di questi in determinate situazioni. Assolutamente. Noi abbiamo questo The Hospital che sta funzionando benissimo. Ogni giorno abbiamo tra i 12 e i 20 trattamenti. Le persone che hanno l'infezione in fase precoce, entro i primi tre giorni, vengono, hanno dei fattori di rischio e vengono trattati in modo tale da minimizzare davvero il rischio di progressione. Quanto ai ricoveri, il dottor Parruti dice che non c'è nessuno stress, meno di 15 pazienti ricoverati sotto controllo. Ovviamente sono persone molto anziane, con molte comorbidità, in cui tutto quello che abbiamo detto non ha potuto essere tale da prevenire il ricovero.